Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare il diario della terza giornata dei gironi della Champions League 2019-2020. Una terza giornata che siamo al giro di Boa, una terza giornata che sta iniziando un po' a delineare quali possono essere le squadre che passeranno il turno. E guardando un po' in casa nostra, guardando un po' in casa delle italiane, diremmo, a parte l'Atalanta, bene. Perché? Iniziamo proprio a parlare dell'Atalanta. Atalanta che perde la sua terza partita di fila in Champions League, 5-1 sul campo del Manchester City. Atalanta che con questa sconfitta è praticamente fuori dall'Europa che conta. La sconfitta non era questa la partita giusta per vincere, non era questa la partita giusta per iniziare a fare punti. La sconfitta era prevedibilissima. L'Atalanta, passando il turno, non dovrà recriminare con questa partita perché non sarà colpa di questa partita se l'Atalanta non passa, ma sarà colpa delle sconfitte precedenti contro la Dinamo Zagabria e lo Shakhtar Donetsk. Parlando un po' della partita, che dire? È stato un match piacevole che l'Atalanta nel primo tempo ha anche giocato bene, messa bene in campo, ha giocato con personalità. Ha fatto anche una partita intelligente perché ha sfruttato i limiti del Manchester City, ovvero aggredirli in difesa dove sono piuttosto lenti e disordinati e dopo colpire con delle incursioni sulla corsia di sinistra. È mancato un po' l'ultimo passaggio, si sentiva l'assenza di Duvan Zapata. L'Atalanta comunque sembrava almeno per un momento in grado di reggere l'urto, solo che una volta che il Manchester City è salito in cattedra veramente non ce n'è stato più per nessuno. Nel secondo tempo poi, con un maggior numero di spazi che si sono creati, la squadra di Guardiola ha veramente giocato sul velluto e ha letteralmente devastato gli avversari. Manchester City di Guardiola, che è una squadra che inizia l'azione dalla difesa, molto abile nel palleggio. L'unico punto debole è la difesa, infatti subiscono anche troppo. Una squadra, sì, fortissima tecnicamente dalla metà campo in su. Una squadra, secondo me, però un po' atipica. Vedi che in difesa mette due registi, Fernandinho e Rodi. Quindi, un po' per questo motivo, una squadra che non riesco mai a vederla così tanto in fondo in Champions League. Se per l'Atalanta le cose vanno male, vanno sicuramente bene per la Juve. Juve che vince 2-1 in rimonta contro il Lokomotiv Mosca. Juve che vince prima a 7 punti assieme all'Atletico Madrid, che nell'altra partita ha vinto di misura contro il Bayer Leverkus. Parlando un po' della partita, c'è da dire che la Juve nel primo tempo ha cercato di giocare, ma non riusciva a trovare sbocchi in avanti. Complice un Lokomotiv Mosca corto e ben colloso, che ha saputo colpire, se non nell'unica, in una delle tre azioni offensive che ha creato nell'arco della partita. Gol dove ha avuto responsabilità tutta la difesa della Juve per vari motivi. Prima perché De Ligt ha sbagliato il rinvio di testa, poi perché Quadrado, Alexandro e Bonucci non sono riusciti a tenere il giocatore del Lokomotiv e poi anche di Cesny perché ha respinto la palla di Gio Mario centralmente, che poi quell'altro ha depositato in rete. Nel secondo tempo la Juve, grazie all'ingresso di Higuain, che ha saputo dare peso e creare Varchi, ha iniziato a creare qualche occasione da gol in più. Il Lokomotiv ha un po' più faticato e i bianconeri nel finale, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a ribaltarla con una doppietta di Dybala. Primo gol dopo una bella azione elaborata di squadra Dybala è stato il rifinitore con un tiro da fuori area. Nel secondo gol invece il numero 10 della Juve è stato bravo a trovarsi nel posto giusto sulla respinta del portiere dei russi. Bene poi anche dopo il 2-1 la gestione del vantaggio, una gestione del vantaggio tranquilla palleggiando e non abbassando il baricentro come si sarebbe fatto in passato. Anche questo è un aspetto importante da tener conto in questa Juve di Sarri. Passando invece poi alle partite delle italiane di oggi, il Napoli ho visto solo gli highlights dopo la partita, non posso dire chissà cosa. Napoli che vince tra due in casa del Salzburgo, Napoli primo nel girone, quindi anche lui messo bene per il passaggio del turno. Per il poco che ho visto dalla sintesi, mi sembra di capire che il Napoli in difesa abbia sofferto abbastanza, infatti sull'1-0 Meret veramente ha fatto non negli straordinari di più. Ti sei fatto rimontare due volte una cosa obiettivamente fastidiosa, però comunque hai vinto, sei primo nel girone, però insomma il farsi recuperare due volte, il soffrire abbastanza in difesa, sono aspetti da non trascurare. Quindi questa vittoria la prenderei abbastanza con le pinze. E poi l'Inter. Inter che vince 2-0 in casa contro il Borussia Dortmund. Inter che con questa vittoria riapre il discorso qualificazione. Una vittoria meritata da parte dell'Inter, però una partita in cui vedo più demeriti del Borussia Dortmund che non meriti dell'Inter. Per carità, l'Inter ha disputato una buona partita, una squadra attenta e cinica. Dopo l'1-0 di Lautaro ha fatto una ottima densità nella sua metà campo. Ha cercato di colpire in contropiede quando aveva gli spazi. Di contro il Borussia Dortmund invece secondo me è stato autore di una prova deludente. Si sono sentite in avanti le essenze di Alcacera e Marco Reus. Non aveva sbocchi in avanti. Poi dopo il rigore sbagliato da Lautaro che ti avrebbe potuto dare se non dovuto dare una carica in più per i minuti finali la squadra, manco per il cazzo a regito. E dopo al novantesimo non puoi prendere quei contropiedi lì tra i contro zero che hanno portato alla seconda rete dell'Inter, quella di Candreva. Però nonostante questo una buona Inter vince meritatamente. Adesso per il passaggio del turno le cose vanno bene barra meglio perché stessi punti del Borussia Dortmund ok che giocherai in Germania però la partita più difficile contro il Barcellona ci sarà in due momenti diversi e in due stradi diversi. L'Inter giocherà col Barcellona in casa e dall'ultima giornata il Borussia Dortmund ce l'avrà una partita prima e al Camp Nou. Oltre ad affrontarsi tra di loro ed affrontare le partite contro il Barcellona però Inter e Borussia Dortmund dovranno anche affrontare lo Slavia Praga squadra che sulla carta per quanto non sia eccezionale è comunque una squadra che gioca e che sa dare filo da torcere. Lo si è visto anche oggi contro il Barcellona nonostante abbia perso. Guardando poi un po' rapidamente gli altri gironi nel girone A altra vittoria del Paris Saint Germain gole A da 5-0 contro il Galatasaray Paris Saint Germain adesso sempre primo a punteggio pieno nel girone prima vittoria del Real Madrid 1-0 sul campo del Galatasaray una vittoria sofferta per le Merengues però una vittoria comunque importante e che le proietta momentaneamente al secondo posto. Nel girone B va tutto come da pronostico vincono sia Bayern Monaco che Tottenham sofferta quella dei tedeschi ad Atene contro l'Olympiakos larga e netta quella degli Spurs in casa contro la Stella Rossa. nei gironi G ed H così come nel girone dell'Inter la situazione è incerta, combattuta ed interessante perché nel girone G il Lipsia ha vinto 2-1 in rimonta contro lo Zenit al momento è primo nel girone e nell'altra partita torna in corsa anche il Benfica torna in corsa il Benfica perché ha ottenuto i suoi primi tre punti 2-1 contro il Lione avvicinandosi agli stessi francesi e allo Zenit di San Pietroburgo insomma in questo girone davvero per quanto non sia chissà che cosa può ancora succedere di tutto. Interessante poi anche l'ultimo girone il girone H dove abbiamo assistito ad una vittoria del Chelsea 1-0 sul campo dell'Ajax Chelsea che sta vivendo davvero un ottimo periodo di forma tra l'altro tra campionato e Coppa mentre il Valencia si fa agguantare all'ultimo dal Lille e segue il Chelsea e lo stesso Ajax a 4 punti Chelsea e Ajax a 6 Valencia a 4 per essere precisi Va bene ragazzi questo è stato un po' un rapido riassunto dell'ultima giornata di Champions League fatemi sapere come la pensate ditemi la vostra, iscrivetevi al canale YouTube iscrivetevi alla pagina Facebook lasciate un commento, lasciate un mi piace spammate questo video in tutti i punti del planisfero detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi!